Stanno dando l'anima questi ragazzi per questo titolo italiano ed è l'Olimpiade Pattinatori Siracusa. Inizia la stagione agonistica per l'Olimpiade Pattinatori Siracusa. La prima gara si è disputata a Pescara e riguarda i campionati nazionali indoor dal 31 gennaio al 2 febbraio. Siamo con il coach della squadra che adesso ci dirà quali risultati avete riportato a Siracusa. Siamo tornati in questi giorni dai campionati nazionali dove abbiamo già ottenuto vari successi. I ragazzi sono andati tutti abbastanza bene. Erano presenti 31 ragazzi che partecipavano alla competizione dove abbiamo ottenuto un titolo nazionale con l'americana squadra senior, con Roberto Fiorito, Vincenzo Maiorca e Francesco Palumbo. I più piccolini, gli allievi, si sono aggiudicati la seconda posizione. In staffetta erano Leopoldo La Rosa, Federico Pappalardo e Giuseppe Fassari. Poi abbiamo ottenuto un secondo posto con Vincenzo Maiorca sul giro sprint. Praticamente lì per un non nulla non abbiamo vinto il titolo nazionale perché nell'ultima curva Vincenzo ha preso una scivolata e non è riuscito a conquistare il titolo. Bene anche La Rosa che di fatto è arrivato secondo, però è stato eliminato per un taglio di percorso che noi abbiamo revisionato le immagini più volte ma non l'abbiamo visto, ma la giuria ha deciso così e dobbiamo accettare il verdetto della giuria. Bene anche Tagliata che ha fatto quarta e quinta, sempre ha un soffio dal titolo, per un punto non ha fatto podio sulla gara a punti e per due millesimi non ha fatto podio sulla mille. Nel complesso molto positiva la spedizione, siamo arrivati quindi come società a un passo anche dal quarto posto perché in questo momento le tre squadre del nord sono irraggiungibili perché sono più attrezzate di noi quindi lotteremo tutta la stagione per arrivare almeno quarti a livello di società. Prima gara del 2020, risultati riconosciuti anche dalla città di Siracusa, infatti anche il sindaco ha avuto il piacere di postare sulla propria pagina Facebook i tre campioni. Sicuramente ci ha fatto tanto piacere perché il nostro sport pur essendo uno sport di tanto sacrificio diciamo che viene un po' snobbato, però vedere che il sindaco a poche ore dal risultato ha postato questa immagine sulla pagina Facebook ufficiale appunto del comune di Siracusa ci ha fatto tanto piacere perché dà il giusto valore a questi ragazzi che si impegnano quotidianamente per raggiungere questi grossi obiettivi perché magari può sembrare semplice ma non lo è soprattutto e lo ribadisco e me però è un dato di fatto con le strutture che abbiamo qui a Siracusa è davvero difficile allenarsi, è davvero difficile portare avanti questi ragazzi però loro con la loro capabilità, con il loro impegno riescono a darci questi risultati e a far parlare Siracusa in tutta Italia e speriamo nei prossimi appuntamenti a livello europeo e a livello mondiale